Ciao amici, bentornati nel mio bellissimo mondo di disagio Prima di iniziare con il video vero e proprio volevo ringraziarvi tantissimo Perché abbiamo superato i 10.000 iscritti Adesso in questo momento siamo tipo a 13.000 qualcosa E quindi sono tanto contenta, vi voglio tanto bene E vi abbraccio tutti tantissimo Fate così E se no io che vi abbraccio Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare uno speciale per i 10.000 Che vabbè ormai diventerà poi uno speciale 15.000 se continuiamo così Ma vabbè Qualcun altro mi aveva chiesto se potevo fare un Ask Quindi ho pensato come video speciale di fare un Ask Cesca Potete farmi tutte le domande che volete Qua sotto nei commenti oppure su Twitter Con l'hashtag Ask Cesca Prevuro che fare questa cosa, oh mio Dio E io risponderò a tutte le vostre domande Detto ciao, buona visione Oh ragazzi che bello Finalmente ci rivediamo Allora come avete passato le vacanze? Sara raccontatemi un po' di cose divertenti Che oggi stiamo un po' tranquilla E poi se mai domani iniziamo a fare un po' di ripasso Va bene? Saluti! Oggi verifica di ripasso Vediamo un po' se avete anche studiato Quest'estate oltre che andare sempre in giro a divertirvi Stupido branco di imbecilli ignoranti Che non siete altro Capri Quest'anno è il mio anno Quest'anno mi impegnerò davvero Studierò ogni giorno Farò i compiti quando li assegneranno E seguirò ogni lezione attentamente Quest'anno Quest'anno si punta al 9 di media Quest'anno è il mio anno No ragazzi non l'avete capito Non l'avete proprio capito Ho scaricato l'emulatore del Game Boy Sull'iPhone Così Le ore di filosofia Gioco a Pokemon Giall Poi faccio magari pausa Candy Crush Durante Italiano Non mi cose città Durante l'ora in inglese Hai compiti per oggi? No assolutamente Ma che ma si punta al 6 e giàone No raga no no Cioè vi siete mancati troppo Non ci vediamo mai Tutta l'estate che non vi vedo Oh Roby Ciao Roby Ciao No voi non avete capito Ho troppe cose da raccontarvi seriamente Grandissime Ti sei tagliate i capelli? Benissimo Stai bene Raga ma siamo tutti insieme Amore mio È un bel Ti prego stai zitta Stai zitta Sì sì La tua amica fidanzata Sì 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 Certo Ma non me ne frega niente Non me ne frega niente Sì Beh bravo A posto Ciao Cretino Baby you should say Sì sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E niente vi voglio tanto bene Pace, amore e unicorni a tutti Grazie a tutti